Tutti i compatti in difesa dell'operato del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. Dopo la notizia della notifica della proroga delle indagini per l'affair Coingas nei confronti del primo cittadino di Arezzo, il dibattito politico si scalda. I gruppi consigliari di maggioranza però, con una nota, si schierano a fianco di Ghinelli. In merito all'avviso di proroga del termine delle indagini notificato ieri al sindaco Alessandro Ghinelli, leggiamo nel comunicato stampa, esprimiamo immutata fiducia nell'operato del sindaco. L'avviso di prosecuzione delle indagini è segno evidente che ad oggi non è stata fatta ancora chiarezza sui fatti e che la magistratura, verso la quale confermiamo la massima fiducia, necessita di ulteriori approfondimenti circa le presunte responsabilità che fin da subito l'opposizione aveva già dato per scontate. Per quanto ci riguarda, proseguono i gruppi di maggioranza, andremo avanti ad onorare il mandato che ci è stato riconosciuto dai cittadini e affronteremo la campagna elettorale su temi concreti per il futuro della città e non su sterili schermaglie politiche.